È un bilancio ritenuto soddisfacente quello che emerge dal report dell'attività svolta nel periodo estivo dalla polizia locale di Seregno, presentato in conferenza stampa. Numeri che pur comprendendo alcuni interventi più impegnativi in termini di tempo e di risorse, sembrano testimoniare la rassicurazione arrivata dal comandante del corpo Giovanni Don Giovanni. Seregno è una città sicura. Sono 3.600 le richieste giunte alla nostra centrale operativa e quindi gli interventi effettuati dalle nostre pattuglie. Un numero importante, importante anche il dato delle attività dei vigili di quartiere con 40 esposti molto complessi gestiti dai nostri operatori, quindi che iniziano a creare un rapporto con la cittadinanza. E poi non dimenticherei le oltre 20 denunce autorità giudiziaria di persone che hanno commesso reati anche gravi, come la violenza di genere. Il grande lavoro di prevenzione, di controllo di azione sul territorio ci ha portato, dopo estati, penso a quella del 2020, subito dopo il Covid, veramente un lavoro importante di miglioramento costante. Mi sento anche di dire, al di là del lavoro enorme della polizia locale, di concerto in collaborazione con le altre forze dell'ordine, che sempre ringrazio, la cosa importante è migliorare la vivibilità della città in generale e anche rispetto ai temi di sicurezza, tante volte gli eventi, le azioni rese a volte a rendere più bella e più partecipata la nostra città portano a maggior presidione, a maggior sicurezza. Da parte dell'amministrazione comunale arriva la conferma della previsione di particolari progettualità per rinforzare ulteriormente il servizio. Il personale è già aumentato di molte unità e anche il numero di telefono che si diceva sarà un numero in più che si andrà ad implementare, così come l'attività del vigile di quartiere che è stata istituita a marzo, già raddoppiata come numeri e che vorremmo raddoppiare ulteriormente. Poi diciamo che rispetto a tutto questo le grandi novità che ci aspettano è l'ulteriore aumento delle risorse umane, che ci permetterà anche di allungare i turni e soprattutto la nuova caserma di polizia locale dove non manca molto e veramente sarà un cambio di passo rispetto ad avere non una scuola adattata come adesso, ma una caserma di ultima generazione funzionale che metta a disposizione tutti gli strumenti per lavorare al meglio.